La soluzione alla fine l'hanno trovata, in una mattinata. Eppure erano mesi che discutevano, litigavano e non si incontravano. Nella storia dei rapporti tra Acea e Comuni forse qualche cosa da oggi cambia e a imporlo è stato il prefetto Emilia Zarrilli. Stanca delle lamentelle dei Comuni ne ha convocati quattro per la mattinata di oggi al Palazzo di Governo, Monte San Giovanni Campano, Pofi, Castro De Volci, Pico e ha convocato anche Acea, il presidente e l'amministratore delegato del ramo d'azienda che gestisce il servizio idrico in provincia. A tutti, a sorpresa, ha fatto trovare in prefettura il garante del servizio idrico integrato, organismo regionale a tutela dei consumatori e un organo terzo rispetto al territorio, cioè viene da fuori. Da questo incontro stanno emergendo alcune criticità importanti di emergenza idrica appunto di alcuni comuni e si sta cercando di trovare la soluzione a queste criticità sempre con la collaborazione del gestore e ritengo che sia importante ricercare le soluzioni migliori che si ritrovano poi radicate nel territorio, cioè sono quelle soluzioni che gli operatori sul territorio riescono a dare soprattutto al gestore. I sindaci hanno contestato ad Acea inadempienze e soprattutto carenze gravissime nella distribuzione, cose che possono essere risolte attraverso un confronto che però qui non è mai decollato e invece questa mattina sì, proprio attraverso il ruolo del garante che è riuscito a mediare e alla fine Acea ha preso l'impegno a compiere verifiche sul posto con Monte San Giovanni Campano e POFI per andare a vedere se le cose stanno come dicono loro e a quel punto metterci mano. Ci aspettiamo un tentativo di conciliazione maggiore lì dove non può arrivare la prefettura e ci auguriamo che sia questo. Comunque la cosa che mi piace sottolineare è che ancora una volta di fronte ai problemi concreti dei cittadini che si rivolgono ai propri sindaci noi cerchiamo di dare solo risposte concrete, non entriamo nel merito dei rapporti della risoluzione con Acea e altro. Ad Acea chiediamo c'è un problema, trovate la soluzione, applicatela e fate in modo che la cittadinanza possa avere quello che gli spetta di diritto, l'acqua che è un bene primario per tutti. Inoltre i comuni hanno chiesto un canale di comunicazione diretta con Acea, hanno contestato che per i sindaci non esiste una linea diretta ma devono chiamare lo stesso call center che usano i cittadini, un punto sul quale anche il prefetto ha insistito sollecitando l'istituzione di una linea rossa per sindaci, carabinieri e prefettura. Anche su questo Acea si è impegnata.